Data la zona impervia, un muro di rocce terra scavato nel fianco della montagna che scende verso il lago, a Salacomacina, è stato necessario usare l'elicottero per recuperare il corpo, alcune ore dopo l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio. Le ruspe usate per stabilizzare la parete e realizzare le fondamenta degli edifici in costruzione con vista sull'ario sono parcheggiate su un pendio quasi verticale, un cantiere insomma che richiede esperienza, e Daniele Caraccio, operaio idile di 56 anni e originario della zona, di esperienza ne aveva molta. Ma gli è bastato un attimo di disattenzione, probabilmente un piede appoggiato male, ed è precipitato dal ponteggio su cui stava lavorando. Un volo di tre metri e l'impatto col suolo di schiena gli è stato fatale. Inutile l'intervento immediato dei soccorsi. Alle indagini spetterà verificare il rispetto nel cantiere di tutte le procedure di sicurezza. Una nuova vittima si aggiunge così al tragico elenco dei morti sul lavoro, che vede l'edilizia tra i settori più colpiti. Sempre in provincia di Como, a Colverde, pochi mesi fa un operaio di 40 anni aveva perso la vita sotto un cumulo di terra durante alcune operazioni di scavo.